La Regione Puglia è un territorio a chiara vocazione agricola, ci sono state varie problematiche, vedi la Xilella, ma si tratta davvero di puntare su questa risorsa. Ne parliamo con Vincenzo Di Gregorio, detto Enzo, che è candidato al Consiglio regionale pugliese con il Partito Democratico a sostegno del Presidente uscente Michele Emiliano. In questi giorni sono in giro in parecchi comuni dove l'agricoltura è un'asse importante, sto raccogliendo idee ai problemi che lattanagliano, per esempio l'acqua, perché c'è una scassità di acqua per l'irrigazione, ma c'è tutto un settore che va sostenuto in maniera diversa e in maniera ancora più pressante. Dobbiamo imparare dai piccoli errori del passato per migliorare l'assistenza agli agricoltori e quando intendo agricoltori intendo sia agli imprenditori che ai braccianti, a chi ci lavora in questo grande sistema che sta portando il grande lustro all'economia pugliese. Grazie! 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 Grazie!